Insegno strategie collaborative tra profit e non profit nell'ambito del corso di alta formazione. Il corso si propone di analizzare quali sono le principali forme di collaborazione tra le imprese e le organizzazioni non profit, proprio in un'ottica di sviluppo di attività collaborative. Nella prima parte della lezione si affronteranno quali sono le problematiche che si devono affrontare nel momento in cui due realtà, quella profit e quella non profit, iniziano a collaborare. Si vedranno poi quelle che sono le modalità di collaborazione, quindi le principali forme di collaborazione e accordo, per poi analizzare quello che è il processo di sviluppo, a partire dall'analisi fino alla valutazione e implementazione di un processo di partnership. Nella seconda parte invece affronteremo come un'organizzazione non profit si può proporre alle imprese con un'attività proprio di corporate fundraising, quindi quali sono gli elementi necessari in termini di analisi fino agli strumenti di comunicazione idonei per raggiungere le imprese e come si sviluppano anche delle presentazioni di progetti ad hoc da proporre alle imprese. Nella ultima parte si vede e si affronta quello che è invece l'attività che deve porre in essere un'organizzazione non profit per proporsi alle aziende, quindi tutte le attività di corporate fundraising in termini di strumenti e progettazione e pianificazione delle attività. Infine si chiude con un'esercitazione pratica sulle modalità di presentazione alle imprese da parte delle organizzazioni non profit e si procede alla costruzione di un piano di corporate fundraising e realizzazione di presentazioni di progetti ad hoc.